Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Incidente sul lavoro giovedì mattina a Fondi in via della Poiana in una traversa di via Flacca quando a metà delle ore della mattina un uomo di più di 70 anni sarebbe caduto da una serra provocandosi delle ferite e delle lesioni. Immediatamente è scattato l'allarme che ha portato sul posto sia i sanitari del 118 che i carabinieri di Fondi ma anche l'eliambulanza che ha preso in carico l'uomo e lo ha trasportato in prognosi riservata al San Camillo di Roma. Giovedì mattina è stato registrato un terremoto seppur di lieve entità di magnitudo 2.2 assezze nel nord della provincia di Latina. Il sisma, malgrado non potentissimo che ha avuto un epicentro a 4 km di profondità, è stato avvertito in modo distinto anche in alcune località del sud pontino. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Ben sei consiglieri regionali eletti in provincia di Latina nelle elezioni di domenica e lunedì per quanto riguarda il rinnovo delle cariche elettive del Lazio. Tra questi ben due sono del sud pontino, ovvero l'ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e l'attuale vice sindaco di Itri Elena Palazzo. Abbiamo raccolto le dichiarazioni proprio della Palazzo a margine dell'elezione. Sono particolarmente orgogliosa del risultato che abbiamo portato a casa. Abbiamo ribaltato ogni previsione e lo abbiamo fatto soltanto grazie ad un mondo umano e politico che si è compattato attorno alla mia persona. Siamo stati presenti in ogni comune della provincia dando dimostrazione che 30 anni di politica sul territorio ti consentono di costruire una comunità forte, pronta a scendere in campo al momento giusto. Abbiamo risvegliato le coscienze e la nostra provincia oggi farà sentire la propria voce dando il via a quel cambiamento atteso ormai da troppi anni. Un particolare ringraziamento lo devo al mio paese, Itri, che non mi ha fatto mancare la forza necessaria per arrivare a destinazione, la Pisana. Concerto spettacolo di San Valentino organizzato dalla Proloco di Fondi. Il titolo dell'evento musicale è L'amor che muove il sole e le altre stelle. L'appuntamento è per sabato alle 18.30 nella sala grande di Palazzo Chaitani, proprio a Fondi. I brani saranno eseguiti da Luigi De Meo al pianoforte, Nicola Galeotti alla chitarra classica e da Maria Di Biasio, cantante soprano. A presentare la serata sarà Stefania Di Benedetto della Proloco di Fondi. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Proloco telefonando o contattando comunque il numero 329-776-4644. Attesa per la prossima settimana quando a Scauri di Minturno arriva una riproduzione della Sacra Sindone presso la parrocchia di Maria Santissima Immacolata di Scauri. L'appuntamento è dal 23 al 26 febbraio con la visita e l'ostensione straordinaria della riproduzione della Sacra Sindone. Previste veglie di preghiera e incontri, oltre alla presenza dell'Arcivesco di Gaeta Luigi Vari che venerdì celebrerà la messa. Per ulteriori dettagli e il programma dettagliato dell'evento è possibile visitare il sito web arcidiocesidigaeta.it. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale. Grazie. Grazie.